L'incontro con i ragazzi nella masterclass dopo il film searching è andato molto bene. La tematica che è emersa è l'attenzione dei giovani al tema della privacy. Molte persone, molti ragazzi inizialmente avevano i profili ad esempio Instagram, Facebook che erano aperti, accessibili a tutti. Oggi invece la maggior parte di loro ha dei profili che sono chiusi. Quindi nasce anche all'interno dei ragazzi la consapevolezza che tutto ciò che viene pubblicato su internet pubblico e quindi è necessario limitare le informazioni che vengono condivise o quantomeno restringerle solamente alle persone di cui ci si può fidare.